Sono Simone Ghirardi, sono all'interno del gruppo AMA da oltre 30 anni e dirigo la Business Unit Garden. Il signor Luciano Malavolti, il presidente di AMA Spa, nel 1985 fondò un'azienda che si chiamava Agrifer. Nel 1992 Agrifer entra a far parte ufficialmente di AMA Spa. Inizialmente la Business Unit Garden parte con la distribuzione in esclusiva per il mercato italiano, di prestigiosi marchi internazionali. Successivamente la produzione diventa ancora più importante all'interno della Business Unit Garden con prodotti progettati e brevettati e di livello superiore. Il terzo e importante fondamentale passo della Business Unit Garden è quello di scegliere e decidere di vendere prodotti a proprio marchio. Questa scelta ha permesso alla Business Unit Garden di affermarsi e di controllare il mercato direttamente, non solo sul territorio nazionale, ma anche in Europa, perché proprio alla metà degli anni 90 il gruppo AMA comincia ad espandersi anche in Europa con la creazione di filiali distributive. Che cosa offre la Business Unit Garden? Offre sicuramente una vasta gamma di prodotti, sia di macchine per la cura del verde, che di accessori e ricambi, ma offre anche e soprattutto un servizio post vendita altamente affidabile, preciso e puntuale. La nostra attenzione è rivolta soprattutto a percepire e intercettare le esigenze del mercato, un mercato in grande evoluzione perché l'utente finale sta diventando un utente sempre più esigente, più tecnologico e soprattutto molto più attento a quelle che sono le esigenze che vengono dettate in materia di attenzione all'ambiente. Per questo motivo la Business Unit Garden sta lavorando per cercare di lavorare per quello che oggi viene chiamata l'economia circolare all'interno della produzione del garden, ma non solo. Scendendo all'interno della Business Unit Garden mi piace sottolineare la grande collaborazione che c'è nel team e il fatto che tutte le persone che sono all'interno di questa Business Unit Garden sono estremamente complementari e questo garantisce una qualità del lavoro molto alta. Un episodio che ritengo molto importante per esprimere il concetto di famiglia, di team, di collaborazione e di amicizia che c'è all'interno del gruppo AMA, mi piace ricordare quello che purtroppo negli ultimi due anni non abbiamo potuto fare per colpa della pandemia e sto parlando delle grigliate estive dove i primi e secondi livelli grigliano, servono in tavola e aiutano i propri colleghi e parliamo quindi di eventi che raccolgono oltre 400, 500, 600 persone. Per rappresentare al meglio la filosofia che guida le scelte all'interno del gruppo AMA, mi piace presentarvi un nuovo prodotto in uscita in questi giorni, si tratta di un mulino per uso domestico, mulino che permette il controllo completo della filiera alimentare. Questo è uno degli esempi per dire come siamo sempre attenti alle esigenze del mercato, alle esigenze dell'utente e attenti ad intercettarne i bisogni. Questo è uno dei tanti motivi per cui scegliere il gruppo AMA.